buongiorno benvenuti rassegna stampa teleambiente lunedì 20 novembre un po al freddo diciamo l'inverno arriva e vediamo l'inverno della nostra rassegna stampa di oggi partiamo dal Corriere della Sera che ha sicuramente la pagina vetrina più interessante e completa della giornata vedete l'apertura è sulla politica e Bersani ma in realtà è sul taglio medio l'Europa vota Milano sul filo un altro voto ieri c'è stato quello di Ostia in realtà questo è un voto importantissimo perché per l'assegnazione dell'agenzia del farmaco che emigra grazie a Teresa May dalla Londra e deve essere assegnata ad una capitale europea in ballo c'è Milano che pare abbia molte frecce nella sua faretra per giocarsi questa possibilità importantissima per il prestigio e anche per l'insieme dell'indotto che l'agenzia offre non fosse altro perché poi sono circa 2-3 mila tra persone che vanno e vengono poi scienziati rappresentanti e via dicendo a contrastare Milano ci sarebbe Barcellona o comunque Madrid alla Spagna come contraltare fa parte di quel discorso dell'attenzione dell'Europa sulle vicende catalane e spagnole è Bratislava che sta crescendo nell'ultime ore perché sarebbe un'assegnazione prestigiosa alla Slovacchia che non ha agenzie di questo tipo ovviamente molto si punta anche sul presidente del Consiglio europeo Tajani appunto che si sta spendendo su questa vicenda la nuova sede dell'EMA primo turno decisivo per l'Italia i ritiri dell'ultima ora nel senso tutta una serie di città si sono ritirate lasciando appunto questo ultimo rascio finale a Milano e Bratislava probabilmente il voto è segreto quindi nell'urna tutto può accadere la parte più politica invece della rappresentazione che ci dà il Corriere della Sera è Bersani dice no al PD sapete quel discorso di una coalizione da contrapporre a quella di centrodestra c'è l'appello di Pisapia sapete che Piero Fassino continua la sua opera di pontiere ma ieri c'è stato anche il voto a Ostia i 5 Stelle vincono sul centrodestra ci dice il Corriere della Sera l'altra notizia diciamo interessante è la vedete la fotonotizia ci dice che in Germania la Merkel ancora non riesce a fare il governo sono passati due mesi questa è una notizia da una parte ovviamente ridice ancora una volta delle precarietà all'interno dell'Europa dall'altra parte si dice però che quando noi critichiamo l'Italia e la sua instabilità la Germania che è l'emblema della stabilità attraverso la cancelliera Merkel a due mesi dalle elezioni ancora non è riuscita a fare il governo e non è detto che ce lo faccia perché ci dice il Corriere della Sera fallisce la trattativa Merkel si reca dal Presidente la vedete con la sua bozzetta mentre va dal Presidente della Repubblica Federale tedesca a dirgli che non ce la sta facendo a mettere insieme i Verdi e i Liberali che non è facilissimo l'ultima notizia sempre di una politica vecchia ma che non molla vecchia ma che non molla è quella di Mugabi che è apparso in tv ieri ha detto io non lascio c'è stato un colpo di Stato che non è un colpo di Stato di coni militari ma io non lascio e quindi è un vecchio che non molla proprio una notizia che ve la do nel senso che è interessante perché saperla omicidio stradale sono 35 le persone in cella per gli omicidi stradali la legge è stata approvata lo scorso anno andiamocene su Repubblica velocemente Nodi Bersani vedete cresce in maniera esponenziale direi quasi su Repubblica Nodi Bersani PD si tratta dopo il voto quindi la posizione dell'MDP di Sinistra Italiana e di questa insieme di Civati che dovrebbero poi riunirsi in una nuova formazione politica e che si va ognuno per conto suo e dopo se c'è da trattare si tratta successivamente dopo le elezioni e questa è la notizia principale Sinistra divisa ecco tutti i seggi a rischio ci dice Repubblica ma attenti se non c'è la coalizione si perdono tutta una serie di seggi sarebbe una trentina, 40 più pessimisti i seggi si parla dell'uninominale ricordate la nuova legge il rosatellum e il 33% sono uninominali e lì o vai in coalizione o perdi o non ce la fai e quindi il centrodestra potrebbe fare man bassa l'analisi ce l'ha da Repubblica Fassino come Sisifo sapete una delle figure mitologiche Sisifo che ha questo masso che deve far risalire e poi gli ricade sempre addosso perché vedere Fassino così diciamo esangua a spingere un masso francamente Sisifo era un po' più forzuto e le fatiche del ricucire quindi Fassino che deve anziché spingere il masso su questa montagna infame deve ricucire tutte queste divisioni infame della sinistra lo sport sopra la testatina la Repubblica ce lo dà la crisi del calcio Malagò spero che Tarecchio sia pronto a dare le dimissioni e questo è un altro vecchio che comincia a spuntare nelle pagine dei giornali e poi la Serie A la Juve è battuta ed è a meno 4 dal Napoli ma ne parleremo poi nella pagina sportiva vedete Mugabi vedete Mugabi in televisione e vedete è divertente questa fotonotizia perché questa sparuta rappresentanza di persone al bar di uomini al bar che si gustano Mugabi che dalla sua sedia presidenziale eccolo qui la vedete 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 queste sono le immagini di lui che parla proprio la diretta televisiva dal suo studio presidenziale quindi non è minimamente agli arresti può parlare tranquillamente con le bandiere dello Zimbabwe vedete dietro ci sono anche i militari che lo avrebbero destituito e che invece non l'hanno destituito e Mugabi ci dice che praticamente lui non molla minimamente e qui come Repubblica se ritorniamo adesso sulle pagine ci racconta Mugabi e gli altri che non sono solamente in Zimbabwe o in giro del mondo ma molti ce ne sono in Italia quei leader immortali che lasciano l'Africa senza democrazia io dico quei leader immortali che impediscono il pieno di spiegamento in tutto il mondo della democrazia e ce ne sono molti ne ritroveremo ancora una notizia piccolissima che neanche vedete sotto la fotonotizia quella della Merkel che non ce la fa di Ostia come vedete c'è solo un catenaccio breve breve sulla pagina sul titolo Ostia alle urne uno su tre vittoria 5 stelle quindi Repubblica proprio è margina allontana zittisce quasi il tributio che invece nella nottata si era aperto tra i 5 stelle e semmai fa un'indagine la vedete sulla pubblicità la palestra confiscata al boss e inaugurata dal ministro resta chiusa per colpa della burocrazia capitolina la palestra è di Ostia confiscato al boss e ancora non apre vi ricordo che Roberto Spada gestiva una palestra lo sport è fondamentale nel bene o nel male in questo caso non si sa perché viene tenuta chiusa passiamo a vedere invece cosa ci dice The Guardian per capire se c'è qualcosa sul Zimbabwe non c'è nulla quindi inglesi attoniti sull'atteggiamento di Mugabi che non se ne va e vedete invece l'attenzione headline cioè la notizia del momento di prima pagina di testa è che praticamente la Merkel sta andando dal presidente della Repubblica Federale a dirgli che c'è praticamente un collasso delle discussioni per mettere insieme questa coalizione quindi non ce la fa e quindi questo è un momento sicuramente molto difficile per la Merkel e per la Germania ed è il The Guardian sito inglese di diciamo di ispirazione laburista che ci dà questa notizia che noi li abbiamo dato passiamo alla stampa adesso vedete un po' la stampa praticamente esce fuori dal coro nel senso ritorna sul discorso delle banche che già aveva dato in prima pagina nei giorni scorsi più volte governo e abbi sia la super procura questa è una richiesta fondamentale qui l'abbiamo data molte volte parlando di questi ultimi cinque anni di questa drammatica vicenda di tanti collassi e questo sì di risparmiatori collassi dal punto di vista lo guadagno e collassi anche personali di guadagni di risparmi traditi e spariti nel giro di pochissimo nei crack bancari Banca Venera Banca di Tururia Vicenza tutta una sequenza certezze giuridiche per le banche ci dice la stampa io direi certezze giuridiche anche per i risparmiatori governo e abbi sia la super procura come per l'antimafia guardate un po' il sottotesto di questa affermazione qual è c'è una super procura per l'antimafia si chiede una super procura sull'atteggiamento delle banche intervista a Paduelli accelerare l'inchiesta Orlando ministro di giustizia servono PM specializzati sostegno per la proposta del vicepresidente del CSM appunto Paduelli e speriamo ce la facciamo infine a legislatura quel che invece ci dice la stampa sempre prontissima sui le questioni ambientali sono due notizie una in chiaro scuro il flagello dei predoni delle campagne nel senso che le campagne italiane sarebbero appunto flagellate da furti costanti di colture che praticamente mettono in difficoltà addirittura la raccolta e questa è una foto delle alte langhe con una praticamente razziate razziate da appunto da predoni l'altra notizia ancora sotto è che si accende lo specchio torna il sole in Val d'Ossola vi ricordate abbiamo seguito la vicenda di due settimane fa degli incendi che avevano tormentato la Val d'Ossola ci dice la stampa torna il sole sopra tutto sport lo vedete Di Bala con il K.O. della Juve Tavecchio che dice che se ne va ma che non se ne va e poi i 50 anni di Becker uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi che fa 50 anni risorgendo dopo la bancarotta che lo aveva praticamente messo sull'astro andiamoci sul fatto quotidiano fatto quotidiano partirei dalla testatina sopra proprio la testata del fatto il Movimento 5 Stelle è pronto a votare la legge sul Biotestamento è importantissima giacciono al Senato tutta una serie di leggi una di queste è il Biotestamento PD e Sinistra sono favorevoli quindi si può fare subito poi dice il fatto se ce la fate Italia e Vitalizzi ci proviamo o no è questa una delle altre leggi che giace lì il fatto continua la sua campagna sugli impresentabili quei candidati che per farsi leggere cercano i boss e ci spiega in una sorta di manuale il giornale diretto da Marco Tavaglio come questi candidati aggirano le regole dell'antimafia dopodiché due notizie interessanti uno su Esra Pound perché si parla tanto di Casa Pound ma questi ragazzi di Casa Pound conosceranno avranno mai letto le poetiche di uno dei più grandi poeti del novecento europeo Esra Pound appunto a cui tutta questa notorietà di destra gli viene solamente per aver denunciato diciamo sui suoi canti anti-usura appunto la comunità ebraica dell'epoca poi vedete una notizia veramente scandalosa su cui sta indagando il questore di Milano perché in una visita di Barbara D'Urso sapete quella subletta una visita di Barbara D'Urso in quest'ora avrebbe goduto del picchietto d'onore schierato dei poliziotti cioè una cosa veramente che mi fa ritornare alla mente la foto di Mugabi nello Zimbabwe ci sono delle cadute improvvise improvvise di stile mettiamola così di opportunità e anche quasi comiche sembra una bazelletta di Cro raccontare la Crozza che credo che a questo punto la dovrà fare nel suo venerdì perché che la Barbara D'Urso di cui non sappiamo niente né arte né parte se non che appare in tv spesso in maniera anche sguagliata si becca il picchietto d'onore della pubblica sicurezza schierata basiti basiti vedete anche l'altra notizia Tavecchio è il giorno del giudizio in FGC quindi oggi tutti attenti i riflettori puntati sul Tavecchio che tanto non se ne va e ve lo diciamo già con come dire assoluta certezza messaggero che finalmente invece apre su Ostia e i 5 Stelle perché dico finalmente perché Ostia in fondo è un aggregato urbano di quasi 300 mila anime credo a memoria dovrebbe essere nelle prime 10-15 città italiane quindi è un voto significativo due elementi due elementi di questo voto uno e lo vedete uno che ha vinto che ha vinto la di Pillo 59.6 la picca molto distanziata a 40.4 e vedete anche che l'altro elemento è l'astenzione record quindi due elementi su cui devono riflettere però l'apertura del messaggero sulle pensioni torna l'ipotesi rinvio il governo impressing sulla Cigelle ma in caso di mancato accordo potrebbe ritirare il pacchetto e questo fa parte di quel discorso di diciamo rilegare le fila di un possibile accordo con la sinistra con la formazione di sinistra Berzani frato gli anni Civati perché qui il discorso è sempre lo stesso poi vedete la fotina della Merkel che credo sia la notizia che più in qualche modo impressiona la Merkel che con la sua bozzetta va ad incontrare e con la sempre la stessa giacchetta va ad incontrare il presidente che perde alleati niente maggioranza una notizia tutta romana Virgilio liceo classico i presidi mandati i cani antidroga perché di Roma sa questa vicenda che è sconcertante dopo l'occupazione del liceo e poi vedete sopra sotto la testatina Tavecchio che va se ne va non se ne va passiamo al tempo ha vinto la Raggi di Ostia ecco che quindi l'apertura del quotidiano della capitale è tutta in maniera puntata inequivocabile sulla vittoria della Di Pillo la pupilla della sindaca di Roma dice il tempo va al 60% e consegna il decimo municipio ai grillini la Di Pillo peraltro è stata anche qui da noi in redazione vedete la vedete mentre la stiamo intervistando ed è evidentemente devo dire anche questa presenza molto tranquilla quasi ingenua con un sorriso ecco qui vedete che la stiamo intervistando è proprio della settimana scorsa ha convinto quel poco di elettorato che del decimo municipio che è andato al voto addirittura c'è stato un seggio quello di Tordecenci dove su 968 elettori aventi diritto hanno votato solamente in due questo ci dovrebbe far riflettere su quello che è oggi un sistema di democrazia che comincia a segnare il passo comunque la Di Pillo vince ed è presidente del decimo municipio auguri e in bocca al lupo chiudiamo il vicenda di Pillo torniamo sul tempo velocemente vedete Silvio lancia il ministero alla terza età quindi abbiamo detto Mugabi vi abbiamo presentato da vecchio ma il terzo vecchio onestamente è Berlusconi e qui non non se ne esce non molla non molla Berlusconi non molla come da vecchio non molla come Mugabi andiamo avanti il giornale pensioni vedete il piano Berlusconi pensioni il piano Berlusconi quindi è tutto sulla terza età il cavaliere minima 1000 euro più cura gli anziani aiuti alle casalinghe è un ministero per la terza età a tutela della terza età quindi proprio Berlusconi non se ne parla proprio è proprio sulla terza età vera quindi un ministero a cura l'editoriale del giornale è sul diciamo il travaglio della sinistra in ginocchio dei comunisti rottamazione follita Renzi ha già perso quindi un attacco a Renzi che è in ginocchio della sinistra ma chi è appunto uno dei discorsi sulla vicenda del ritrovarsi della sinistra sia lo Jussoli non ce lo dice il giornale perché lo Jussoli dice fa pezzi anche la Merkel uno degli elementi che avrebbe fatto saltare l'accordo con i Verdi è proprio quello sullo Jussoli perché il segretario nazionale tedesco dei Verdi è di origini turchi e qui si è imbastito tutto un discorso che voi sapete ha molto danneggiato ha molto danneggiato la Merkel ma che il Jussoli sia uno dei temi della Repubblica di questa legislatura è evidente allora vediamo cosa ne dice visto che la sinistra cerca di trovare sul Jussoli un punto d'accordo più ampio addirittura di coalizione ed elettorale vediamo cosa ne dice Brunetta che dello Jussoli è sicuramente uno dei più fieri oppositori ci avrà ripensato vediamo l'abbiamo detto e ridetto in tutti i modi mai lo Juss soli Vinavil della sinistra collante della sinistra strumento della sinistra per accarappiare qualche consenso in più o mettersi insieme mai e poi mai se Renzi Gentiloni la sinistra di governo vorrà fare questa forzatura al Senato noi risponderemo durissimamente e soprattutto se mai la legge verrà approvata ma non credo inizieremo dal giorno dopo la raccolta delle firme per il referendum abrogativo l'Italia è un paese accogliente l'Italia è un paese aperto l'Italia già da ogni anno 200.000 cittadinanze agli stranieri siamo il paese più generoso e più aperto da questo punto di vista non vogliamo per ragioni puramente elettoralistiche della sinistra dare in automatico un milione di cittadinanze quello che succederebbe se fosse approvato il cosiddetto Ius Soli basta bene eccolo qua non c'è dubbio che Brunetta l'idea non l'ha cambiata andiamo sul Libero quindi è proprio tema di campagna elettorale ci dice Brunetta Libero dittatura dei pannoloni quindi qui siamo proprio come dire all'apoteosi all'apoteosi per quanto concerne per quanto concerne la terza età Silvio si candida ministro dei vecchi viene anche un po' preso in giro da Libero ecco qui lo vedete prontamente sempre con gente di terza età vedete che quindi Silvio Berlusconi proprio sta facendo di questo discorso sulla terza età dopo che ha lanciato quello sugli animalisti ve lo ricordate sicuramente dalla formazione politica che è anche nata adesso è tutto puntato sulla terza età e su una serie di parole guida per attirare l'attenzione diciamo di un elettorato maturo e vedete anche le manovre elettorali di Berlusconi che sono molto interessanti comunque tornando sul libro Dittatura dei pannoloni che potrebbe essere il titolo di questa puntata di questa puntata di prima pagina qui qui da teleambiente dopodiché sotto la fotonotizia con Berlusconi e i suoi pannoloni vedete Antonio Ricci inventore padronni di striscia che torna sulla vicenda delle moleste sessuali e ci dà una bella notizia in tv tutti si prostituiscono quindi uomini donne grandi piccoli vecchi maturi si prostituiscono per Antonio Ricci tutti e se lo dice lui praticamente qualcosa più di noi la sa andiamocene sul foglio il foglio che è quello del lunedì è di riflessione qui vedete God save the kingdom quindi io salvi il regno non tanto la regina ma proprio l'Inghilterra dopo la Brexit come può un paese a disagio con se stesso e introverso ritrovarsi quando si guarda allo specchio forse non può e questo secondo il foglio è tutto l'esito devastante devastante della Brexit da cui l'Inghilterra il Regno Unito non riesce a districarsi andiamocene sul sole 24 ore che ci dà tutta una serie di notizie economiche intanto che l'affitto supera il 2% quindi gli affitti stanno aumentando in tutta Italia e vedete anche il riguardadino lo vedete sugli affitti comparati tra Milano Centro Milano Periferia Roma e tutto il resto e vedete anche le cifre medie da 1200 centro di Milano alle 9.50 in periferia alle 12 di Roma centro quindi gli affitti intanto come notizia di curiosità sono identici secondo il sole 24 ore tra Roma e Milano comunque stanno aumentando il che significa questo anche qui sotto testo che dovrebbe ripartire il mercato immobiliare che è fermo ormai da 10 anni rottamazione lo vedete senza sosta che pare sia diventato con l'avvento di Renzi la rottamazione è diventata una delle parole calte ogni decennio ha una sua parola calte e qui si rischia che dalla rottamazione della politica si passa alla rottamazione invece delle cartelle esattoriali che francamente è anche meglio per tutti noi per molte cartelle un calendario di scadenze rottamazione a tutto spiano dopodiché nuovo fronte della Tari uno scontro dovuto alla casa in vacanza che mi sembra ragionevole se uno ha una casa in vacanza e ci va alcuni mesi l'anno perché deve pagare la Tari come se ci vivesse tutto l'anno quando di rifiuti ne fa sicuramente molti di meno e poi tutta una bella fotina di notizia questa sì sulla città del farmaco in Europa la posta in gioco in 15 domande il sole 24 ore si gioca tutto su questa cosa e ci candida praticamente un bello skyline lo vedete lo vedete di Milano dopodiché l'assegno l'addio all'assegno di divorzio fa già a scuola sapete tutta la vicenda che è arrivata a compimento con Berlusconi che ha risparmiato 60 milioni pare se la Veronica Lario non farà opposizione del suo assegno di divorzio vediamo cosa dicono i siti adesso internazionali Le Monde vedete la Germania Merkel deplora il fallimento l'escec del negoziato per formare il nuovo governo è un inizio importante perché voi sapete che la forma elettorale tedesca il modello elettorale tedesca veniva considerato uno dei più solidi da te tant'è che noi a quello ci dovremmo ispirare vedete che non c'è un modello c'è una politica non è che il modello garantisca la stabilità è la politica e le sue idee e i progetti che lo devono garantire quindi Le Monde ci dà questa notizia andiamo a vedere il mondo che ci dice ecco il mondo ovviamente il giornale sito spagnolo il giornale spagnolo ci dice ancora sulla Catalogna che Los Mossos de Squadra che è la polizia catalana era praticamente pronto a distruggere le prove del primo 1-0 che era il voto del referendum 1-ottobre la Spagna e i siti spagnoli hanno inventato le sigle per alleggerire i titoli quindi significa che 1-10 è il voto del referendum quello dell'indipendenza e che erano pronti a distruggerli quindi una prova d'accusa molto forte contro di loro e dopodiché lasciamo il mondo e vediamo di arrivare alla pagina sportiva pagina sportiva importantissima perché ci dice intanto che l'Inter è seconda che la Juve ha perso vediamoci io direi vediamoci Allegri ci sentiamo sentiamo la faccia triste reputo di Allegri allenatore della Juve in primo tempo la squadra ha fatto un bel primo tempo sia in fase di gestione della palla che in fase difensiva la Sampdoria ha cercato di impienzerirci ma la squadra ha difeso bene non ha subito neanche un tiro in porta poi in secondo tempo abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio non ci siamo andati siamo andati sotto su un'azione un po' rocambolesca ma questo fa parte del calcio la cosa che bisogna sicuramente migliorare è quella di di gestire di giocare meglio con la stessa velocità senza farsi nervosire quando andiamo sotto bene non riuscivo neanche a sentirlo quindi l'abbiamo l'abbiamo tolto perché in effetti l'audio era molto basso comunque insomma Allegri ci dice che ci può essere ci vogliamo vedere la classifica così capiamo meglio e poi dopo ci concentriamo tutto sul tavecchio così ecco questa è la classifica dopo la tredicesima giornata vedete Napoli primo Inter secondo Juve terza Roma quarta con una partita in meno la Roma ha vinto il derby e quindi in qualche modo ha risolto il punto su chi delle prime cinque doveva mollare teoricamente ha mollato la Lazio ma insomma la Lazio ha ancora una partita da recuperare però la sconfitta sul derby è una di quelle che si fanno sentire quindi la vedete vedete questa questa classifica con la Juve che pericolosamente si sta staccando in coda il Benevento ancora non riesce a vincere una partita e quindi a zero punti dopo 13 record mondiale di tutto il mondo e di tutti i tempi vedete lo splendido campionato della Sampdoria che ha battuto la Juventus torniamo invece sulla Gazzetta dello Sport perché la notizia è Tavecchio la resa dei conti allora io adesso vi proponiamo questa bellissima intervista fatta dalle Iene a un Tavecchio inedito un Tavecchio che meriterebbe una poetica del Leopardi sulla mediocrità dell'uomo comune chiamato a responsabilità enorme Tavecchio la debacle è tecnica la scelta tecnica sbagliata della formazione l'allenatore devo dirlo per volta chi ha scelto per un allenatore? l'ho scelto io l'allenatore quindi è un po' stressato? dorme tranquillo? no non dorme? no sono 4 giorni che non dormo dorme male insomma è una vita un po' emozionale si dorme e si svegli c'ha gli occhi lucidi no abbiamo giocato male abbiamo giocato con una con gente alta quasi 1,90 avete sentito questa intervista incredibile nonostante tutto questo pare che oggi non voglio assolutamente lasciare ai noi tanti vecchi che veramente dovrebbero capire che andare insieme ai nipotini sarebbe un esito importante della loro ultima diciamo decenni di vita va bene quindi grandi vecchi grande l'assegna stampa oggi qui a te l'ambiente vi saluto tutti a domani qui a te l'ambiente qui a te l'ambiente